Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con la notizia dal web della città, edizione culturale. Partiamo come sempre dalla musica, questa sera ritorna l'orchestra sinfonica nazionale della RAI, lo editorno nazionale RAI Arturo Toscanini in piazza Rossaro 15 per il quarto concerto della stagione sinfonica. Questa sera il programma, musiche di Beethoven e Dvorak, a partire dalle 20.30, domani sera invece alle ore 21.00. È il segreto dei suoi occhi, regia di Juan José Campanella, film argentino del 2009. Il cinema massimo in sala 3 lo propone questa sera, nella versione originale spagnola sottotitolata in italiano, alle ore 18.30 e alle ore 21.00. Finiamo con il teatro, Don Patagonia, padre Alberto Maria de Agostini, uno spettacolo di Laura Pariani, un omaggio alla figura di Alberto Maria de Agostini, a 50 anni dalla sua scomparsa, al cinema teatro Agnelli, alle ore 21.00. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, torniamo domani con l'ultimo appuntamento della settimana, con le notizie culturali dal web della città, alle ore 17.00 circa, vi auguro una buona serata. Grazie.